Un saluto a tutti da Teglio Barris e benvenuti in questo video speciale esclusiva Michael Schumacher Allora, perché questo video? Perché voglio da tutti voi iscritti una vostra considerazione su quello che sta succedendo nelle ultime ore Praticamente il tabloid The Build ha fatto delle foto private nella villa di Ginevra di Michael Schumacher Dove addirittura lo riprendono Michael nelle condizioni che è oggi E questo video sinceramente lo voglio fare perché io ci tengo a Michael Schumacher E soprattutto voglio sapere la vostra Addirittura si dice che stanno vendendo queste foto a una cifra stratosferica Parliamo di un milione di sterline e sono veramente tantissime per avere le foto in esclusiva di Michael Schumacher Quindi io voglio chiedere a voi sotto qui nei commenti Innanzitutto tu metti il pollicione su, disgraziate, condividi questo video Proprio per parlare tutti quanti insieme di un grandissimo campione e dobbiamo proteggerlo Io non sono d'accordo su questa cosa Se la famiglia ha deciso di tenere la propria privacy su quello che è la salute di Michael Schumacher E non ha voluto lei stessa divulgare delle foto Perché devono andare questi figli di Bip a fare delle foto di nascosto E sono sicuramente foto non belle da vedere Io Michael Schumacher me lo voglio ricordare per quello che era Non per quello che è oggi Perché farebbe soffrire tutti quei tifosi che veramente li vogliono bene Io sono uno tra questi Voi siete d'accordo su questa cosa qui? È giusto pubblicare queste foto? Perché ora so, dall'ultimo, nelle fonti Che praticamente la moglie subito si è azionata per bloccare il tutto Perché non vuole assolutamente che escono queste foto E si parla di denunce subito penali su questa cosa qui Perché comunque diciamo che è tipo un fattore tipo corona Una cosa del genere quando successe il fatto di Adriano Quindi subito si è voluto accertare se queste foto non reali E da quanto lei ha visto sono reali Quindi sono foto vere Non sono fotomontaggi Quindi lei vuole subito bloccare questa cosa E addirittura, come fanno molti Può darsi che le hanno proposto di bloccarle Alla cifra di un milione di sterline E proprio alla moglie Io non so come andrà a finire Non so se queste foto verranno pubblicate o no Ovviamente voglio sapere la vostra Su quello che pensate di Michael Schumacher E nelle condizioni che sta È giusto mostrare queste foto o non è giusto Proteggere la privacy ad oggi È giusto o non è giusto Commentate qui sotto questo video Un saluto a tutti da Dio Borris Ciao